3 antipasti freddi che si preparano in pochissimo tempo, sfiziosi e appetitosi, ricette velocissime. Prendo 3 acciughe sott'olio ben sgocciolate, prendo un filetto e arrotolo su se stesso a formare una rosellina. In un cestino di pasta frolla, si può utilizzare anche della pasta sfoglia, metto un pochino di stracciatella. Sistemo sopra la rosellina di acciuga e delle foglioline di valeriana, semplice e velocissimo da preparare ed ecco a voi il primo antipasto. Per la seconda preparazione utilizzerò del formaggio morbido tipo Philadelphia al salmone e dell'erba cipollina. Realizzo un ciuffo di formaggio al salmone sopra uno snack tipo crackers. Decoro con l'erba cipollina. E anche il secondo antipastino è super pronto. Per l'ultima preparazione utilizzerò del formaggio fresco spalmabile alle erbe. Taglio in piccoli pezzettini dei pomodorini. In una conchiglia tipo crackers inserisco un ciuffo di formaggio alle erbe. Decoro con i capperi, un pezzettino di pomodorino e una fogliolina di basilico. Eccomi carissimi amici, 3D per degli antipastini freddi senza cottura. 3D facilissime da preparare in anticipo senza stress. Ideali da gustare per un aperitivo, per un buffet o per le prossime festività di Natale. Provateli e fatemi sapere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.